Con la vittoria sul Sestri Levante si è conclusa una stagione nella sua parte regolare. Ne chiediamo un bilancio a Sebastiano Bianchi per poi concentrarci ovviamente su questa nuova fase che si apre, quella dei play-off. Intanto, la stagione regolare, sei soddisfatto? Una stagione molto positiva, avevamo determinati obiettivi. Il primo era la salvezza e l'abbiamo raggiunto con estrema anticipo. Il secondo erano i play-off e l'abbiamo raggiunti posizionandoci all'ottava posizione. Incontreremo la Juventus che è una squadra molto giovane, molto forte tecnicamente, ha qualità. Ma come dimostrato anche nella gara di ritorno soprattutto ci potremo giocare le nostre carte e non sarà affatto facile per loro. È stata anche una stagione che ha visto il contributo importante di un nutrito gruppo di giovani per quanto riguarda l'Arezzo. Tra questo gruppo inseriamo anche Sebastiano Bianchi. Ti chiedo quale è stata dal punto di vista anche la stagione come un'occasione di crescita ulteriore da un punto di vista professionale. Sicuramente eravamo in tanti giovani che venivamo dalla Serie D e esordivamo il primo anno in Serie C. Un pochino di adattamento, un pochino di miglioramento ci vuole per adattarsi alla categoria, per prendere il ritmo e il livello della categoria. Però credo che sia stato fatto da tutti un ottimo lavoro e abbiamo raggiunto un buon livello. Il problema al ginocchio e alle spalle? Sì, alle spalle. Quindi adesso sei a disposizione di Mr. Indiana? Totale disposizione.